E perché li condisci sul fuoco? E se insaporiscono meglio, no? Come si dice? Il calore li aiuta a sposarsi. Il sugo avvolge la pasta, arrapandola, la penetra fino a dentro e la ingravida di sapore. Senti che profumo arzillo? Adesso ho capito perché si chiama puttanesca. È uno spaghetturodico. Più che altro frodisieco. Riempie la panza e indosta la mazza. È davvero? Ti trattavo troppo male durante il giorno. Almeno la sera ci faccio pace. Mi ci fai far pace anche a me? E a muo, sì.